Ma guardatelo, con cuore audacia Si sta a bombare pure il muscolo, guardatelo Il ragazzo che bomba Non ha avuto un atto la bomba facile Ma guardatelo, guardatelo, guardatelo Eh ma ora penso che regge la campana Penso che ora la campana regge Ma ora, guardatelo, guardatelo Sfrigati Davide Bomba 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 Eh ti stai stancato Davide, che dai dico il cappio Ma guardatelo Non c'è uno Non vedo, non vedo Non vedo, non vedo Non vedo Fatemi vedere le dettagli Ma vai, la prossima! Beh, che saggia, ci sto un po' No, devi non andare Guarda, dammi, dammi che l'ho arrivato Andate in mezzo Non c'è la 4 Non c'è la 4 Eeeh Che vuoi fare? Che vuoi fare, eh? Questa che se ne stava Ma no E se spettiamo al finito E' lo vinto Non si può dire se è un pezzo di morizio Vai, volta Vai che non succia la pomba Vai dappena che non succia la pomba Sai quando vuoi? Ti do a fare la pomba Vai Sai qua La pomba al mare Hai finito, vai alla prossima Questa qua, non vuoi La prostata, vai Non ti prendiamo il ciclo Eh, bisogna riprendere il tutto Chi è quello là giù? Ma non mi sta stancando pure Sta stancando Ma va bene Passa la parte Va bene qua Si, passa la parte Oh, ce n'è un'altra adesso Guardatelo Eh, più esperto Eh, pomba Pomba con due mani Vedi a fare i suoi vestiti Si, però Massimo tu si due mani Davide una con la macella Ma io sto allenato Guardate il tuo finale Vai, vai, vai Guardate la pomba Vedi a fare i suoi vestiti I cappetti I cappetti Grazie. Grazie. 36. 46. 46. E' elevato in mezzo di piedi. Non sei via. Non sei via. Non sei via. Vai. Zio, che fase è questa? Aspetta. Sacca. Guardate. 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 Aspetta Mario. Mario aspetta. Mario. Ehi. Dio. Guardate. Guardate. L'anies. Dio. Anche. E' molto... Davide si vede sicuro un chiamardino, ma va a te... Faltata, lascia solo... Faltata, no! Ce la farà Davide a fare un buco? Guarda il buco che fa... Davide! Davide! Ma andassi quello che scrocca! Davide! Oh! Vabbè! 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 La prendi? Vabbè! 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 Chi è questo vosso? Vabbè! Ecco anche Crick! È Crick o Grock! Vabbè! Que no! Vabbè! Grazie